Questa infrastruttura è di fatto fuori legge. Così ha parlato il presidente Marco Marsilio a margine della visita dei tecnici del Ministero ai laboratori dell'Istituto di Fisica Nucleare. I tecnici sono giunti nel cuore del Gran Sasso per verificare gli interventi di messa in sicurezza. Lì c'è il traforo dove corre l'autostrada A24 gestita da Strada dei Parchi. Ci sono i laboratori di ricerca, ma soprattutto c'è la falda acquifera con relativo acquedotto che rifornisce circa 700.000 abruzzesi. E come confermato anche da Marsilio, l'infrastruttura non è a norma di legge. Se si pretende di metterla in sicurezza nel rispetto di tutte le norme, ha dichiarato il governatore, vuol dire che due delle tre funzioni, tra acquedotto, traforo e laboratori, sono incompatibili e bisognerà scegliere, ha concluso Marsilio, quella che deve restare. Sembra però fantascienza che un centro di ricerca così importante, qual è l'INFN, possa smontare baracche e baracchini, così come che un'arteria fondamentale, come quella autostradale, possa essere spostata altrove. E in conclusione, l'Abruzzo non può di certo rinunciare a una delle sue maggiori fonti d'acqua. È il tentativo di rappresentare una situazione che non esiste, insorge il movimento per l'acqua del Gran Sasso. Il timore è quello che Marsilio, piuttosto che sollecitare la messa in sicurezza a spese di Stato e Strada dei Parchi, voglia invece che le norme siano cambiate e adeguate alle irregolarità. Le dichiarazioni di Marsilio non hanno ragion d'essere, a nostro avviso servono solo per abbassare la sticella dei futuri interventi, che magari, cambiando le norme, per far diventare, diciamo, regolari le situazioni irregolari. L'articolo 94 del testo unico dell'ambiente prevede che qualora i punti di captazione dell'acqua non possano essere sufficientemente distanziati dai centri di pericolo, allora bisogna procedere alla messa in sicurezza. Si può fare, gridano gli ambientalisti, e tutte e tre le infrastrutture possono essere salvate. Si può fare? Certo, si deve fare. Per esempio, allontanando le 2300 tonnellate di sostanze pericolose, attualmente stoccate irregolarmente nei laboratori e così via. Bisogna lavorare sulle volte delle gallerie autostradali, bisogna rifare le tubazioni. Ecco, a noi sembra che il Presidente Marsilio voglia un po' creare artificiosamente una condizione che non c'è, cioè quella che è impossibile applicare le norme, per poter cambiare e far andare avanti il sistema con piccoli interventi invece di fare iniziative radicali che invece servono e soprattutto far rispettare le norme a chi oggi, finora, non le ha rispettate.